Ciao, se anche tu come me hai fatto questo switch di lavorare praticamente molto in cuffia, saprai anche tutti i vari rischi che ne comporta, ossia lavorare ad alto volume in cuffia potrebbe portare a danneggiare il tuo udito, cosa che non auguro a nessuno, soprattutto se sei un musicista o un fonico. Quindi problemi come tanti mi scrivevano, simpaticissimi, non so, adesso vi spiego, problemi che potreste sviluppare del tintinnus o come si chiama in italiano, quando vi fischiano le orecchie oppure potete perdere sensibilità su alcune frequenze, ad esempio io ho un piccolo buco a 3500 Hz circa a sinistra dovuto a anni e anni e anni purtroppo di esposizione, soprattutto in regia, in radio, in televisione o in presa diretta, a volume in cuffia piuttosto sostenuti. Come poter combattere questa cosa? Io nello specifico che lavoro a volte anche per 8 ore di fila in cuffia in radio, uso una modalità di gain down, quindi ascolto a bassissimo volume, ma compenso con un equalizzatore, quello che può essere la perdita di informazioni a bassa e altissima frequenza, quelle, diciamo, delle curve di Fletcher e Manson. Fletcher e Manson, tra l'altro non lo sapevo, l'ho scoperto preparando questo video, quindi riperiano, imparate voi, ma imparo anch'io, è stato deprecato, è stato sostituito da un ISO 226, non so, un'altra roba dove hanno sistemato un attimo le approssimazioni che avevano fatto Fletcher e Manson. Che cosa significa? Significa che al variare del volume di ascolto varia la sensibilità alle frequenze del nostro orecchio. Quindi, se sentite a basso volume, sentirete meno basse, meno alte, mentre ad alto volume avete una risposta più lineare, proprio del vostro orecchio. E' questo il motivo per cui si consigliano che le regie debbano suonare a 85 decibel nel punto di ascolto, è il motivo per cui molti sound engineer, ad esempio ricordo anche sull'SSL di Addeo, lui ha un misuratore di SPL sul banco, quindi lui può monitorare in tempo reale a che dB sta ascoltando il suo mix, in modo da poter controllare il suo pomello del volume d'ascolto, appunto guardando a quanti decibel sta ascoltando il suo brano, molto molto intelligente. Una cosa di quelle che magari tanti non raccontano, ma che fanno senza volerlo, magari dopo l'esperienza di anni. Il problema è questo, è molto difficile andare a misurare in quanti dB SPL si lavora in cuffia, perché in cassa è facile, basta appunto usare un misuratore, non usate quello del telefono che non è troppo preciso, compratevelo un cazzo di misuratore di SPL se lavorate in cassa, è molto molto comodo. E quindi avere la vostra reference di mio mix, lì ascolto, tutti a questo volume di ascolto, vi aiuterà a fare delle scelte di EQ sicuramente migliori. In cuffia è molto difficile misurare l'SPL, lo fanno alcuni Nier, ad esempio le AirPods, le Pro hanno un misuratore interno, potete guardare nella loro applicazione a quanti dB state ascoltando la musica. Nelle cuffie come si può fare? Io personalmente mi baso su due fattori, una è quella del volume del parlato di una persona, ossia indossando le cuffie cerco chiudendo gli occhi di immaginarmi di avere una persona a un metro di distanza che mi parla e vado a mecciare un po' con la memoria mia interna il volume che può avere una persona che ti parla a un metro di distanza in una conversazione normale, questo può darti un buon check. Ma cosa succede? In alcuni casi io voglio lavorare sotto questa soglia, quindi voglio lavorare per periodi molto più lunghi a un volume più basso. Come posso fare? Devo compensare queste frequenze che perdo appunto con un equalizzatore. È una cosa che fa anche Dan Worrell, ha fatto un video su questa cosa, dove lui ha tutta una serie di equalizzatori, parte di questo mio video è anche in risposta al suo video e ispirato dal suo video, non nascondo nulla, non è che mi cago le cose, io come tutti guardo anche YouTube di altri, e l'ho trovata una cosa molto interessante che mi stavo ritrovando a fare. Una delle cose che facevo prima di scoprire il suo video era che avevo una DAC cuffie che aveva l'equalizzatore e aveva un tastino che era la famosa modalità loud degli amplificatori, che funzionava anche sulla cuffia. Che cos'è il tastino loud sugli amplificatori, quelli di casa, gli i-fi di casa? È la compensazione di queste frequenze, basse e alte frequenze, se ascoltate musica a basso volume. Ogni amplificatore ha le sue curve, tutte queste curve saranno diverse, non ci sarà una curva giusta per voi, anche perché poi dipende a che volume l'ascoltate. Loro cercavano di dire, benissimo, se il nostro utilizzatore finale ascolterà musica però non a 85 dB ma più bassa, sentirà di merda. Quindi gli diamo la possibilità con un tastino di poter compensare questa perdita appunto di equalizzazione. Ci sono dei plugin che lo fanno per voi. Il più bello, uno dei plugin che fa questa menata, e ci sono gli sconti del motivo per cui sono uscito così presto con questo video, è il Sleek EQ Mastering Edition. Nello Sleek EQ Mastering Edition, nel pomello centrale, dove c'è appunto il gain, ci sono delle modalità di equalizzazione. Se andiamo nel manuale, andiamo a vedere che la modalità EL, se non sbaglio, andiamo a cercarla, eccolo qua, è appunto la modalità EL, la Equal Loudness Curve. Quindi cosa succede? Man mano che scendete o salite di volume, lui vi va a cambiare l'equalizzazione che state ascoltando. Ve lo faccio vedere in sessione. Se la volete provare, scaricatevi la demo. Eccolo qua, io sto usando la demo. Praticamente se accendete il vostro gain, vedete che fa più 4 e meno 4, potete attivare la modalità EL. Se andiamo a studiare come funziona questa modalità, quindi metto un Vertom Analyzer, con lo scendere del gain, lui mi va, vedete, a compensare quella che è Fletcher Manson o la ISO 2.2 Alleger, appunto, a seconda del volume. Quindi meno 4 dB significano più, quasi 4 dB a 20 Hz e più 4 dB poi a 20 kHz. Quindi vi dà questo tipo di curva, appunto, per compensare. E questa è la differenza che tante volte dico tra l'ascoltare il vostro mix a basso volume, fare i livelli oppure equalizzare ad alto volume, perché appunto cambia questo tipo di percezione. Ovviamente sono curve che potete copiare con qualsiasi altro equalizzatore. Un altro modo di trovare queste curve è farlo a mano. Quindi semplicemente voi vi mettete le vostre canzoni preferite, abbassate di 6-10 dB quanto vi serve e correggete l'equalizzazione. Proprio con un equalizzatore usate il ProQ3, il Kirchhoff, quello che volete. E correggete in modo che, togliendo e mettendo questo gain down, non cambi la percezione di quanto basso, quanto kick sentite, quanti high-head sentite. Quindi, se abbassando i 10 dB il vostro mix perdete, ad esempio, gli high-head e il basso, riequalizzateli in modo che, appunto, la vostra percezione tra il vostro audio a 0 e a meno 10 dB, quindi, relativo, non assoluto, ovviamente, non cambi, ok? Quindi potete farvi delle curve a mano. A volte uso il TDRQ, quello gratuito, e mi sono fatto dei piccoli preset in cui ho tipo un preset da meno 6, un preset da meno 15, un preset da meno 20, se proprio ho, che ne so, un podcast da editare da 6 ore, uso il meno 20, così lo faccio proprio sussurrando. Quindi è una cosa che potete fare anche a mano. Oppure potete usare degli Airverb, e ve li linko qua sotto, ho praticamente delle... no, non l'Airverb, scusate, il Reaverb. Il Reaverb o qualsiasi lettore di impulsi di risposta, ho dei preset, praticamente, che possono togliervi 6 o 10 dB e vi compensano, appunto, questo EQ. Nello specifico ce li ho su Google Drive, perché ce li ho sul computer del lavoro, perché qua a casa faccio meno questa cosa, la faccio più il lavoro, li vado a prendere. Ho la mia cartellina con le mie convoluzioni, praticamente ho 10 dB lineari, 10 dB corretti con la loudness, e una versione alternativa, e addirittura la versione da 20 dB. Quindi se me la scarico, secondo me ce l'ho già nel computer da qualche parte. Orca puttana, è vero che mi si? Quindi in questo caso, ad esempio, se ci carichiamo la nostra meno 10 dB, ovviamente tenendo soltanto il wet attivo, vediamo che, appunto, abbiamo un gain down con la correzione di EQ secondo l'ISO 226. Recupera un pochino il meno, è un altissimo, ma vedete che le curve sono quanto meno simili. C'è ovviamente una versione da meno 20 dB, ok, quindi loudness, che ci porta ancora più sotto, ve la tiro su per comodità, che vedete è ancora più estrema. Questo mi permette, applicando appunto questi preset, di lavorare a bassissimo volume in cuffia per moltissime ore, senza affaticare le orecchie, ma avere comunque una percezione del mix che sia molto più corretta che non. Perché sennò tendi a esagerare, no? Tendi a mettere troppe basse, tendi a mettere troppe alte, poi dopo vai e ascolti in macchina un volume un pochino più alto e dici che cazzo ho fatto c'ho sto buco nelle medie gigantesco. Questo qui è come io combatto questa cosa. Attenzione perché è una cosa a cui ti devi abituare, insomma, è una cosa anche questa un pochino più per utenti esperti e non per neofiti. Se sei un neofita ignora pure tutto questo delirio, impara a mixare normale, poi dopo ci pensi. Questo qui è più un pensiero a chi magari come me lavora per moltissime ore in cuffia e vuole lavorare a un volume un pochino più basso, appunto per sistemarsi un po' i problemi di acufeni o desensibilizzazioni o magari mal di testa che ti possono venire nel lavorare moltissime ore in cuffia. Personalmente ho avuto qualche problema di acufeni dopo il periodo covid eccetera, probabilmente dovuti al stress della situazione e tutto. Adesso si stanno, sono molto molto migliori ed è sempre anche un po' uno stigma parlarne, no? Perché tu dici cazzo fa il fonico, non ci senti, che cazzo fai? La realtà è che, ricordo con molta simpatia, anche se non è una roba proprio simpaticissima, ero in DocServizi e ci hanno mandato tutti giustamente a fare gli esami medici, no? A tutti i vari associati della DocServizi è uno dei servizi molto belli che fa quella cooperativa e c'era ovviamente anche la fonometria all'interno di questi controlli per vedere appunto che lavorando sul palco o comunque in studi tutto il giorno non si andasse a danneggiare troppo l'orecchio. Di tutti i fonici presenti non ce n'era uno che aveva le orecchie dritte quindi mi ha detto, beh, siamo in ottime mani però purtroppo è un po' la realtà di questo lavoro purtroppo si va a danneggiare quello che più è importante per assurdo però questo qui è il sistema che ho trovato per poter appunto resistere a lunghi periodi i rischi ovviamente non ci sono soltanto in cuffia ci sono anche in cassa vorrei un po' debancare per quanto ne so io invece tutte le questioni che la cuffia automaticamente va a incidere sulla salute delle tue orecchie è il volume alto in cuffia che incide negativamente sulle tue orecchie ma la cuffia in sé è stato provato scientificamente non ha nessun tipo di problema l'unico problema che era stato riscontrato era se usi delle cuffie chiuse per tante ore il microclima interno della cuffia potrebbe diventare troppo umido per la salute del timpone e tutto ma è il motivo per cui a me piacciono le cuffie aperte così l'orecchio respira correttamente ovviamente non sono un medico quindi non vi so rispondere ho problemi di acufeni cosa posso prendere, cosa non posso fare la cosa che ti posso consigliare però vai a fare un controllino costa una stupidata cosa ti costa? 50 euro, 60 euro forse se lo fai magari tramite ticket anche meno vai, ti fai una bella fonometria così anche tu potrai provare quel momento di merda in cui il medico ti guarda come per dire questa sinusoide la senti? e tu sei lì in cuffia che dici non sento niente in questa frequenza e allora ti aumenta il volume e poi dici ah sì, adesso la sento è un momento di merda quello lì perché capisci che purtroppo stai lavorando con una muscolatura e un organo del tuo corpo che purtroppo deteriora nel tempo è così, va così la cosa che però ecco, voglio passare come messaggio è anche se hai dei problemi di udito di questo tipo quindi una deformazione della risposta in frequenza o una desensibilizzazione tra left e right tutto, non ti preoccupare tutti i fonici ce l'hanno la musica continua a uscire suona bene perché comunque il tuo cervello andrà poi a compensare comunque questi problemi quindi non ti stressare troppo ma stressati sul volume con cui lavori e quello è importante per il lungo periodo perché in alcuni casi non c'è più un'attenuazione ma c'è proprio una cancellazione dalla frequenza e ciò che è cancellato non è recuperabile nemmeno dal nostro cervello nonostante sia molto molto intelligente in alcuni casi non nel mio ok ciao ci vediamo al prossimo video spero che anche questo sia stato interessante metto il link qua sotto spero che il lost in grega se lo scaricate in troppi a liger cazzi vostri ok